La soddisfazione è oggi vedere questa scuola e riconsegnarla breve ai vostri figli? Tanta, tanta soddisfazione perché ci abbiamo messo tanto impegno, per cui sì, è una grande soddisfazione. Mentre noi facevamo i lavori, diciamo così, di ristrutturazione, poi le moglie, le mamme, le bambini hanno pulito, insomma, ripulivano lo sporco che facevamo e per cui insomma ci siamo impegnati tutti, c'erano le famiglie al completo. Si sono rimboccati le maniche e vernice, pennello alla mano, hanno rifatto il look alla scuola elementare di Stagiano. Un'estate di lavoro per i genitori dei piccoli alunni, per far trovare così tutto pronto per la prima campanella di settembre. La nostra iniziativa era nata in un'interclasse fra docenti e genitori, avevamo proposto un rinnovamento dell'ambiente che era un pochino con i colori che non ci piacevano e allora abbiamo chiesto alle famiglie un piccolo restyling. Poi le famiglie si sono adoperate, ci sono venute incontro e hanno veramente creato un ambiente meraviglioso. I genitori hanno acquistato e sistemato arredi e tinteggiato le pareti. Il comune di Arezzo ha contribuito mettendo a disposizione quanto necessario al restyling delle aule. Tutti insieme ci siamo trovati d'accordo per dare questo tocco di novità, soprattutto nei colori, nelle tinteggiature. L'anno scorso l'amministrazione è intervenuta per cambiare tutti gli infissi, per rifare tutti i bagni e quest'anno i genitori hanno dato questo tocco di novità e di gradevole aspetto estetico, oltre che funzionale perché questa è la prima aula per la cosiddetta scuola senza zaino. Quindi importanti novità con un po' di sforzo da parte di tutti, è una bellissima iniziativa. Le sorprese a Stagiano infatti non finiscono qui. Il nuovo anno scolastico parte con l'avvio del progetto A Scuola Senza Zaino. Si chiama Senza Zaino perché significa che loro a scuola troveranno degli spazi organizzati, loro avranno una borsa carina, insomma trendy, con il materiale giusto per quello che dovranno fare a casa perché il resto lo troveranno a scuola, nei laboratori organizzati aperti. E diciamo che questa metodologia per noi è stata possibile perché già da tempo applichiamo le metodologie innovative del cooperative learning, della peer education per suscitare la motivazione. Quindi i nostri docenti si sono trovati pronti per affrontare questo bel viaggio.